Musica Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che si apre occupandoci di tutela ambientale. Un inquinamento di proporzioni enormi è stato riscontrato alla foce del fiume Salso. I batteri fecali sono 25 volte più alti del limite consentito. La denuncia è di a testa alta i particolari in questo servizio. I batteri fecali sarebbero 25 volte più alti della norma. A scrivere il nuovo capitolo della saga legata all'inquinamento della foce del Salso è l'associazione a testa alta presieduta dall'avvocato Antonino Catania che ha presentato una corposa memoria al magistrato titolare del fascicolo corredata da una relazione sulle analisi eseguite dall'equipe tecnica di Lega Ambiente proprio nei pressi dello sbocco del depuratore comunale gestito da Girgenti Acque. Che i valori della parte finale del corso d'acqua che attraversa la città non fossero nella norma era già stato evidenziato la scorsa estate dal monitoraggio effettuato ogni anno da Lega Ambiente che aveva pubblicato i dati di Goletta Verde. Ma non si poteva prevedere che l'inquinamento avesse assunto proporzioni così grandi. Che il grado di contaminazione batterica rilevato l'estate scorsa alla foce del Salso fosse risultato fortemente inquinato era già noto, scrive in una dettagliata relazione a testa alta. Ma che i valori di Escherica Coli, indicatore di contaminazione da refluo fognario, superassero di oltre 25 volte i limiti previsti alla legge, no. E neppure che i valori degli enterococchi intestinali fossero ben al di sopra di quelli consentiti alla normativa vigente. È bene precisare che le analisi effettuate da Goletta Verde con il suo laboratorio mobile non sostituiscono quelle degli enti ufficiali, ma è altrettanto vero che rappresentano uno spunto interessante per ulteriori accertamenti per capire dove risiedono le principali criticità e adottare le conseguenti azioni. Ed è proprio questo l'input che arriva alla Procura della Repubblica di Agrigento. A testa alta si è avvalsa della collaborazione volontaria di una biologa, la dottoressa Claudia Adamo, la cui fotografia della situazione alla foce del Salso non lascia spazio ad alcun ottimismo. Risultati a dir poco sconcertanti le sue parole, dal momento che i parametri presi in considerazione dalla squadra dei tecnici di Goletta Verde sono proprio quelli previsti dal decreto legislativo per i controlli sulla balneazione e raggiungono valori di gran lunga superiori a quelli massimi accettabili. La presenza di Escherica Coli e di Enterococchi, aggiunge la biologa Adamo, è peraltro legata all'esistenza di scarichi diretti di fognature non depurate e comunque di scarichi mal depurati o mal disinfettati. Ciò deve indurre tutti ad un'attenta riflessione tenuto conto del punto in cui sono stati effettuati i prelievi. In particolare, il monito lanciato dalla specialista, gli enti competenti dovranno adottare al più presto provvedimenti volti a scongiurare ulteriori inquinamenti, nonché altri rischi per l'habitat della foce e la salute dei cittadini. Se pensiamo che in corrispondenza della foce del salso si continua a pescare, i rischi per la salute umana sono potenzialmente molto seri. Come si ricorderà, la foce del salso, nello scorso mese di aprile, si verificarono diversi riversamenti di acqua nera in mare dal depuratore di contrada di Pellino, che indussero la procura ad aprire un'indagine a seguito dell'informativa di reato trasmessa dalla Guardia Costiera e dalla denuncia con richiesta di sequestro, presentata sempre dall'associazione a testa alta. Nella tarta serata di ieri, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno tratto in arresto e in flagranza di reato due cittadini rumeni, Vladeanu Bogdan Stefano, 27 anni, e Pana Marian Catalin, 38 anni, entrambi domiciliati a Favara e già noti alle forze dell'ordine. Gli stessi si sono resi responsabili del reato di furto aggravato in concorso, mentre il solo Vladeanu, di guida senza patente perché mai conseguinta, è sotto l'influenza di alcol. E il solo Pana, di sostituzione di persona e falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale della propria identità. I carabinieri sono intervenuti lungo la strada statale 115 di Catagera, dove hanno intimato l'alta ad un furgone Fiat Ducato, risultato oggetto di furto perpetrato alle precedenti ore 18 ad Adrano, condotto da Vladeanu Bogdan Stefano con a bordo Pana Marian Catalin. I carabinieri del comando stazione di Racalmuto hanno arrestato ai domiciliari Massimiliano Puma, 37 anni del luogo già noto alle forze dell'ordine in esecuzione dell'ordinanza di misura alternativa alla detenzione emessa dal Tribunale di sorveglianza di Palermo per aver detenuto illegalmente vario munizionamento, fatti accaduti a Racalmuto nel 2011. Lo stesso dovrà scontrare 3 mesi e 13 giorni di pena detentiva. Cambiamo argomento, ci occupiamo di sanità. Saranno avviati a breve per un importo di 800 mila euro i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo Alto Passo. A darne notizie è la direzione generale dell'ASP di Agrigento che con una nota ha replicato all'interrogazione presentata nei giorni scorsi all'onorevole Lillo Firetto. Vediamo il servizio di Ilani Abona. Partiranno a breve i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso dell'ospedale di Licata, precisarlo oggi è la direzione generale dell'ASP di Agrigento. La vicenda che riguarda il pronto soccorso era stata oggetto nei giorni scorsi di un'interrogazione a firma dell'onorevole Firetto e oggi giunge la precisazione da parte della direzione generale. Con l'interrogazione si stigmatizzava la carenza di personale medico-infermieristico e ausiliario con conseguente eccesso di carico di lavoro per gli addetti, con pericolo di erogazioni di prestazione di basso livello e conseguente mancanza di tranquillità da parte della popolazione. Immediata la risposta da parte della direzione generale dell'ASP che precisa la dotazione organica presente e quindi medici e infermieri è in linea con la media degli altri pronto soccorso dell'azienda, in ogni caso sufficiente a garantire il bisogno di salute in ordine alla peculiarità dei reparti attivati. Altri pronto soccorso di ospedali viciniori a quello di Licata, come quello di Gela, si legge nella nota firma della direzione generale, sembra che a parità di organico riesca a garantire il doppio delle prestazioni sanitarie per un'utenza più numerosa. Se questo risultasse veritiero, il problema si sposterebbe sul piano della qualità delle prestazioni erogate dal personale interessato, con conseguenti provvedimenti. La direzione generale, nonostante le difficoltà economiche, ha privilegiato e curato l'area di emergenza-urgenza, cercando di garantire il personale necessario. E proprio in questi giorni, in forma e precisa alla direzione generale, sono stati avviati al lavoro tre medici per i reparti di pronto soccorso e tre medici per i reparti di anestesia e rianimazione. È stato predisposto anche un piano di ristrutturazione messa a norma di quasi tutti i reparti. La direzione generale dell'Asp comunica che tra la fine del mese di marzo e i primi giorni di aprile saranno avviati i lavori del pronto soccorso per un importo di 800 mila euro e il reparto sarà spostato in un altro padiglione al fine di garantire il servizio durante i lavori di ristrutturazione messa a norma del reparto. E la direzione strategica dell'Asp di Agrigento con l'ufficio educazione alla salute e il distretto sanitario promuovono un progetto pilota basato sul modello educativo di Group Care. dal titolo L'educazione terapeutica del paziente diabetico. L'obiettivo è di aumentare la conoscenza del diabete alla fine di migliorare lo stile di vita per l'empowerment delle persone con diabete, favorire l'autogestione del controllo metabolico, prevenire le complicanze acute e croniche che influiscono sulla qualità della vita e sulla spesa sanitaria. Ieri nella sala convegni del Carmine si è tenuta un'assemblea dei lavoratori del comune di Licata. Alla presenza del segretario provinciale della CISL Floriana Russo sono intervenuti Pippo Cellure della segreteria confederale di Licata e gli eletti RSU della CISL. Nell'assemblea, oltre a ribadire l'impegno a fianco dei lavoratori, si è parlato del risultato conseguito in occasione di questa tornata elettorale, risultato conseguito con l'impegno di tutti i candidati. La CISL è stato il sindacato più votato con 118 voti e gli eletti RSU sono Totò Cassaro, riconfermato con 52 preferenze, Giovanni Casano, riconfermato con 42 preferenze, Tonino Napoli con 39 preferenze, Lillo Damanti con 30 preferenze. Al termine dell'assemblea si è tenuto un rinfresco con tutti i lavoratori. Apriamo adesso la pagina politica. Il dottore Giuseppe Montano conferma il suo impegno politico e ufficializza la sua candidatura a sindaco di Licata. A sostenere le candidature del dottore Giuseppe Montano ci sono anche diversi gruppi giovanili. Abbiamo sentito il rappresentante di uno di questi gruppi. Oggi il dottor Giuseppe Montano, agronomo, conferma il suo impegno in politica e annuncia la sua candidatura a sindaco di Licata. Il vostro gruppo giovanile, Io ho scelto Resto qui Licata, ha scelto di sostenere Giuseppe Montano? Sì esatto, dopo un'attenta e accurata valutazione di quella che era la proposta delle amministrative del 2015 e quindi dopo aver vagliato tutti i vari candidati il nostro gruppo giovanile ha deciso di scendere in campo e a sostegno del candidato Pino Montano per una valutazione molto attenta a quelle che sono state le nostre ricerche, anche le nostre intagini e interrogazioni sui vari candidati. Nella figura di Pino Montano abbiamo trovato un uomo, prima di ogni altra cosa, che ha avuto la pazienza, la voglia e anche l'endusiasmo e l'interesse di ascoltare quelle erano veramente le richieste dei giovani e soprattutto che si è messo dalla parte dei giovani dandoci anche dei ruoli molto importanti all'interno della sua vera e propria campagna elettorale, ma non dei ruoli come poltrone o come dei ruoli politici ma dei ruoli proprio da sostenitori. Ha ascoltato molto le nostre richieste che erano comunque delle richieste sincere, delle richieste vere di aiuto alla nostra società, aiuto alla collettività di Licata e soprattutto sostegno ai giovani e alle giovani imprese. A tutti coloro che veramente appartengono al nostro gruppo hanno deciso di restare a Licata e investire il loro tempo i loro soldi, il loro spazio, la loro voglia, la loro allegria nella costruzione di un paese più bello e di un paese migliore dove poter crescere i propri figli e domani fare famiglia e quindi mantenere la continuità di questo paese che è importante e fondamentale. Ricordiamo quando avverrà la presentazione? Sì, la presentazione del candidato sindaco Giuseppe Montana avverrà domenica mattina alle ore 11 presso i locali dell'ex Monte dei Paschi di Siena, proprio accanto alla chiesa di Sette Spade. Perché scegliere questa posizione come sede? Non abbiamo voluto scegliere sotto anche il nostro consiglio dei luoghi importanti del comune, quale potrebbe essere un'aula, un luogo storico e neanche una piazza vera e propria. Abbiamo voluto scegliere qualcosa che rappresenti veramente il degrado di quello che sta succedendo a Licata e quindi i locali di una banca che ha chiuso. È rappresentativo questo della situazione reale di Licata, se chiudono le banche vuol dire che c'è meno disponibilità economica e proprio su quello bisogna intervenire, proprio su quello bisogna fare un intervento concreto e reale su quelle che sono le esigenze vere della città, ovvero l'esigenza di avere più respiro, più ossigeno e più sostegno. E noi proprio per quello scenderemo in campo con lui. Abbiamo riscontrato in Giuseppe Montana veramente una persona meravigliosa, a prescindere dai ruoli politici che ha precedentemente ricoperto. È un uomo che ha due figli, due figlie, entrambe due femmine, che come noi giovani, la maggior parte di Licatesi si stanno lavorando fuori e avranno il sogno, come tutti noi, magari noi siamo riusciti a farlo nonostante gli istenti, ma si vorrebbe dare la possibilità anche a coloro, a tutte le famiglie che hanno adesso dei figli fuori, di dare una possibilità, una chance a questi ragazzi che hanno veramente studiato tanto e fatto tanto per portare un valore aggiunto nella nostra città e quindi le motivazioni per cui votarlo sono proprio quelle. Diamo un'altra chance, diamo un'alternativa al nostro paese e soprattutto diamo un respiro e speranza, ma senza l'obbligo di rendere qualcosa a qualcuno. Diamolo solo con l'obbligo, il dovere e la necessità di fare l'esigenza della collettività, il bene comune. Diamo adesso lettura di una nota che ci arriva dall'onorevole Michele Cimino. Condivido pienamente le dichiarazioni dell'onorevole Giampiero D'Alia e ritengo doveroso sottolineare che l'attenzione del Presidente dell'Udc e di tutti noi debba essere puntata non solo su Agrigento, ma anche su Messina e sull'intera regione. E' quanto afferma il deputato regionale e segretario della PDR, commentando le affermazioni dell'onorevole D'Alia sulla sanità agrigentina in vista delle amministrative. Mi sorprende e mi pare strano, aggiunge Cimino, che queste affermazioni arrivano proprio oggi, mentre nessun intervento è stato registrato per le precedenti gestioni, posto che D'Alia è in politica da diverso tempo. Tre importanti interventi sono in corso di esecuzione sulla condotta di adduzione principale che da Aragona porta l'acqua fino ad Agrigento. La squadra di manutenzione della Girgenti Acqua stanno lavorando sui tratti che attraversano Contrada San Michele e Contrada Fontanelle. Un'altra squadra sta lavorando in via Federico Fellini al villaggio Mosè per la riparazione di due perdite idriche. Interventi sono in corso anche a Licata, in via Gela, Largo Corvaia e in Contrada Nicolizia, in via Lincoln a Ravanusa, in via Svezia, via Lipari a Canicattie e in via Laudicina a Naro. Oltre alla riparazione delle perdite sulle reti idriche e fognarie, le squadre di manutenzione stanno lavorando sui ripristini del manto stradale oggetto di scavi per le riparazioni effettuate nei giorni scorsi. Parliamo di agricoltura. Una delegazione del Comitato Noimu ieri sera è stata presente in Consiglio Comunale. Abbiamo sentito il responsabile del Comitato, Enzo Antona. Ascoltiamolo in questa intervista. Enzo Antona, il Comitato Noimu ieri sera è stato presente in Consiglio Comunale. Si sta cercando di fare un po' di pressione anche sul civico consesso. C'è sempre l'Imu Agricola in primo piano. Sì, pur sapendo che non potevamo prendere parola perché c'era il Consiglio Comunale e i punti erano tutt'altri, un gruppo di agricoltori, rappresentanti di varie zone, abbiamo preso la decisione con il Comitato Noimu di essere presenti per sollegettare il famoso Consiglio aperto per decidere quale tipo di iniziative fare contro quest'Imu perché sarà alla mannaia dell'azienda. Cosa vi è stato risposto da parte del Presidente o dei Consiglieri Comunali? Beh, il Presidente diciamo che si è dimostrato abbastanza disponibile dicendoci che già gli era arrivata anche una richiesta dei comuni vicino a prendere un'iniziativa. Erano d'accordo però a giorni si aspetta che si faccia questo Consiglio aperto per poter discutere come poterci muovere definitivamente su questa cosa. Il Comitato da lei diretto non sta ovviamente rimanendo fermo, si stanno vagliando tutte le opportunità? Sì, è certo che si stanno vagliando perché quello che io vorrei dire a tutti perché ieri sera mi è dispiaciuto che mancavano un mezzo Consiglio Comunale, possiamo dire. Per lo più persone che diciamo si stanno candidando a cercare diciamo di arrivare alla portata di sindaco. Cioè queste persone, noi vediamo in tv schieramenti di senatori, onorevoli, chi addirittura si va vandando che al ministro. Cioè io direi di fare qualche iniziativa per dimostrare che veramente vogliono bene questo Paese interpellando a questi ministri, a questi senatori, a questi onorevoli e portare avanti una battaglia seria per il Paese. Non è che servono semplicemente le figure per poter prendere qualche voto. Siamo ormai al conto alla rovescia. Se il governo non interverrà autorizzando l'uso della quarta vasca, entro 20 giorni la discarica di Sciacca dovrà chiudere. Lo dice Giovanni Panepinto, parlamentare regionale del PD e componente della Commissione Territorio e Ambiente all'Ars. Le conseguenze, continua Panepinto, sarebbero facilmente immaginabili dal momento che la discarica, una delle poche pubbliche della Sicilia, riceve i rifiuti di ben 17 comuni. Siamo di fronte ad un vero e proprio allarme ambientale. Fly Cinema rende noto che sono iniziati i lavori per il trasferimento nei nuovi locali di Corso Roma. La programmazione riprenderà a lavori ultimati. Adesso ci fermiamoci alla rubrica con gli eventi del mese e il break pubblicitario tra poco. Al centro commerciale Il Porto, i Cartoons Friends. Domenica 22 marzo, direttamente dalla Melavisione e Raioio, incontra il folletto bibitiere Milo Cotogno. Centro commerciale Il Porto, il divertimento è assicurato. Questo programma è offerto da Dai Fratello Antona, grande la qualità, grande la scelta di piccolo, c'è soltanto il prezzo, scusate se poco. Nuova El Sombrero, strada statale 115, contrada a Saffarello, Alicata. Agri Garden, di Agostino Mugnoz, via Palma 312, Alicata. Domani è alicata a cieli in prevalenza poco parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio. Sono previste deboli piogge durante la notte. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15 gradi, la minima di 11 gradi. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da est, al pomeriggio moderati e proverranno da est sud-est. Mare molto mosso, umidità oscillante tra il 56 e l'81%. Questo programma vi è stato presentato da... Da Cader di Gambino è arrivato il sottoprezzo su tutta la merce. Cader Alicata Sportline, in via Palma 27, Alicata. Anche in apertura di seconda parte ci occupiamo di tutela ambientale. Il Dipartimento Lavori Pubblici ha giudicato una gara per rimuovere l'amianto presente sugli immobili di proprietà comunale. Palazzo di Città ha esplettato una gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di bonifica dall'amianto dagli immobili comunali. L'importo a base di gara era di 33.120 euro e di 3.680 per costo della sicurezza non soggetto al ribasso. Sette le ditte che hanno preso parte alla gara, esperita nei locali che ospitano il Dipartimento Lavori Pubblici di Via Gerretta, ha giudicata con il criterio del ribasso più vantaggioso per l'ente. L'aggiudicazione è stata a favore dell'impresa Cielauro Service Dinaro, che ha presentato un ribasso del 39,25%, per effetto del quale l'importo che dovrà corrispondere al comune scende a 20.120,40 euro. Seconda classificata è risultata l'impresa Euro Ambiente di Serra di Falco. Diversi gli immobili comunali dove sono presenti coperture di amianto. I due casi più evidenti sono quelli del mercato ortofrutticolo di Via Gerretta, dove le coperture che sovrastano i box dove al mattino viene venduta al dettaglio la frutta, sono appunto in Ethernet, quello del tetto dell'autoparco comunale, anche in questo caso ricoperto di materiale contenente amianto. L'aggiudicazione della gara sposa anche una legge che prevede la rimozione di tutti i manufatti o le coperture in amianto all'interno dei luoghi di lavoro e di vita. I soldi impegnati con questa gara non potranno ovviamente bastare per bonificare al 100% tutti gli immobili comunali, ma serviranno per iniziare l'opera. Lunedì 23 marzo l'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Giovan Battista Pizzo nell'ambito di alcune visite istituzionali programmate ad Agrigento si recrea anche presso l'ufficio del Genio Civile. È prevista alle ore 11.30 una conferenza stampa nel corso della quale l'assessore Pizzo con il capo dell'ufficio, l'ingegnere Dovili Alonji, affronterà in particolare le problematiche legate ai recenti dissesti idrogeologici che si sono verificati a causa delle incessanti piogge che hanno investito il territorio agrigentino. Con il rinnovo delle cariche Uras Federalberghi Sicilia, il riconfermato presidente Nico Torrisi ha voluto dare un segnale positivo di estrema considerazione del comparto turistico ligatese nominando consigliere Salvo Russo, titolare dell'hotel Alfaro. Con la presenza di un nuovo e funzionale porto turistico e di importanti strutture turistiche quale il Serenusa Villa, la giulicata oggi rappresenta una destinazione di considerevole prospettiva. La scelta di Coop Tare in Consiglio Uras Federalberghi Sicilia e il dottor Salvo Russo è la personale scelta della categoria di rendere partecipe al territorio ligatese sulle future scelte turistiche nell'intera isola. Questo l'augurio del presidente Torrisi. Il FAI, Fondo Italiano per l'Ambiente e per la sua campagna Ricordiamoci di salvare l'Italia, ha scelto come immagine la Valle dei Templi di Agrigento. In particolare si tratta del Tempio dei Dioscuri che si erge sopra la Colimbetra, gestita appunto dal FAI. Grazie a questa iniziativa in questi giorni il Tempio Agrigentino sarà ricordato in tutto il Paese in una campagna promozionale, positiva e gratuita. Oltre 20 editori televisivi che rappresentano l'informazione territoriale dell'intera isola si sono incontrati a Caltanissetta per affrontare le problematiche del settore radio-televisivo alla luce dell'esperienza maturata dopo oltre due anni dal passaggio al digitale terrestre e particolare in questo servizio. Una giornata importante ieri per l'editoria siciliana che ha riunito a Caltanissetta, all'Hotel San Michele oltre 20 editori televisivi che rappresentano l'informazione territoriale di tutta la Sicilia. Anche Agrigento ha partecipato con la presenza di tutti gli editori delle emittenti televisive locali. Al centro della riunione sono i problemi che sta attraversando il settore radio-televisivo alla luce delle conseguenze che ha comportato in questi due anni il passaggio alla digitale terrestre. Un evento storico per le televisioni l'introduzione della digitale che ha comportato però notevoli investimenti tecnologici ancora del tutto improduttivi aggravati dal calo degli inserzionisti dovuto alla crisi generale. A ciò si è aggiunto anche l'assenza della classe politica regionale che, affermano gli editori, non ha gestito il cambiamento tramite fondi europei lo switch-off nel 2012 e successivamente riconfermandosi ancora peggio dopo l'approvazione del 2013 della legge sull'editoria fortemente voluta dagli editori rimasta inapplicata perché senza decreti attuativi. Abbiamo trovato un'intesa comune oggi oltre 20 editori di tutta la Sicilia per dire basta a questo sistema dello smantellamento dell'emittenza locale. Noi rivendichiamo i nostri diritti vogliamo l'applicazione della legge sull'editoria ferma da oltre un anno e mezzo presso la regione siciliana chiediamo di attivare tutti gli incentivi i fonti europei e soprattutto vogliamo capire qual è il futuro dell'emittenza locale perché siamo stanchi di essere ribaltati dal Ministero all'Autorità per le Garanzie e di vivere di proroghe continue su una dismissione delle frequenze che non trova la sua applicabilità nel nostro territorio. Dunque ieri gli editori televisivi siciliani aderenti alla REA TV Sicilia hanno approvato una serie di iniziative che metteranno in atto già dalla prossima settimana per garantire la continuità e la storia delle emittenti televisive locali che da oltre 30 anni svolgono un servizio pubblico basandosi sulle proprie forze. Era il nostro ultimo servizio grazie per la cortesia attenzione arrivederci.